Musica Dal karaoke proposto da Radio Wow a Ghibli, Painter e Sand Artist Toscana con le sue creazioni di sabbia ha incantato tutti. Tante le proposte della città di Natale ad Arezzo per questo ponte dell'Immacolata. Le creazioni con la sabbia sono state appunto tra le più originali per chi se le fosse perse l'appuntamento è anche per venerdì 9 dicembre dalle 17.30 alle 18.30. In piazza della Badia l'inaugurazione della piazza dei presepi contornata dai racconti del Buon Natale a cura della Libera Accademia del Teatro. Per il fine settimana grande attesa per lo spettacolo in prima assoluta per l'Italia dei Catapult sabato 10 e domenica 11 dicembre che sarà dedicato al rapporto tra uomo e natura, un omaggio alla fantasia con la mera forza di luce e ombra. Le esibizioni si terranno dalle 17.30 alle 18.30.